Allora, mi chiamo Alessandro Niceforo Sono un giocatore di calcio a 5 e anche un consulente finanziario Non conoscevo il calendario Hellboys Ne sono venuto a conoscenza quest'anno tramite dei miei amici che già conoscevano il prodotto Ho deciso di partecipare perché è uno stimolo, è un'esperienza nuova E mi piace misurarmi in tante altre cose che non ho mai fatto Spero che questa esperienza mi porti tanta visibilità Conoscenza di nuove persone e l'apertura di un mondo nel quale non sono stato moltissimo Non ho mai fatto foto di nudo Con il mio corpo mi trovo molto bene Sono molto soddisfatto di come sono fatto La sinergia con il fotografo è stata spettacolare Sin dal primo giorno che sono arrivato perché sono arrivato un giorno prima Quindi una persona molto affabile ti mette a tuo agio senza problemi Amo riuscire sempre in tutte le cose che faccio Quindi se la vogliamo chiamare ambizione, chiamiamola ambizione Amici, amiche, donne e uomini di tutte le età Vi invito a comprare questo calendario Primo perché ci sono io Quindi di conseguenza è un motivo in più per comprarlo Seconda cosa è fatto benissimo, c'è un lavoro stupendo dietro E poi più ne comprate e più mi vedo Ciao